Ti fuggo anch'io. Da giovane vidi un serpente e gli dissi con disprezzo, Serpente, sei nemico a Dio, tutti ti fuggono e ti fuggo anch'io. Commento Com'è possibile che esista qualcosa che sia nemica dell'assoluto? Non c'è nulla che sia inutile e ingiusto, perché l'assoluto lo contiene. Non c'è nulla che sia.